Lavoro come producer per iFiction e mi occupo dello sviluppo della produzione per il primetime delle principali reti Rai. Dopo la laurea ho subito iniziato un dottorato in scienze del testo all'Università di Siena. Il mio settore di ricerca è quello relativo all'adattamento letterario per la televisione e ai format televisivi. Nelis ha ottenuto un corso sulle teorie e tecniche della scrittura narrativa e della produzione audiovisiva in cui abbiamo messo in luce gli aspetti principali della drammaturgia, dalla struttura entre atti all'arco di trasformazione del personaggio e ci siamo anche concentrati nell'ultima lezione sulle strategie di scrittura e di realizzazione dei format per la televisione. Dietro a ogni personaggio c'è sicuramente un tema di fondo e un valore che viene veicolato, che viene scoperto, che viene cambiato anche. Si tratta di informazioni, di regole, di strategie che permettono a qualunque fruttore di interpretare, analizzare e capire i testi della produzione culturale. Per chi, come i ragazzi del Corso Media, vuole approcciarsi alla scrittura, alla produzione audiovisiva, è impensabile non comprendere le regole di una buona storia, di come vive il mondo possibile narrativo. Grazie a tutti!